Furti con ipnosi. Sempre più casi di furti attraverso l'ipnosi si registrano in tutto il mondo. Come potete vedere nel filmato, il malvivente con strani gesti riesce a convincere la cassiera a farsi dare l'incasso. Il tutto avviene con estrema facilità e sotto gli occhi di tutti. Ma come può avvenire tutto questo? Lo abbiamo domandato ad un esperto. Siamo in collegamento con il dottor Marco Paret, direttore della scuola di ipnosi. Buonasera dottor Paret. Buonasera. Come può accadere che una ragazza di un supermercato sia ipnotizzata e dia via i soldi così facilmente? Il tutto è ottenuto grazie allo sguardo. La persona entra in uno stato di coscienza passiva, quindi ad un certo punto non capisce più e praticamente la sua mente va in uno stato di off. E quindi cosa succede esattamente? Praticamente segue direttamente quello che gli viene detto dall'esterno, non ha volontà attiva e reagisce con una pseudologica, cioè se gli viene detto qualcosa lo fa. Ci può fare un esempio? Adesso facciamo vedere. Buongiorno, potrebbe per favore cambiarmi questa banconota da 50 in biglietti più piccoli? Senta, mi guardi, potrebbe cambiare questa banconota da 10 in 2 da 5. Anzi, scusi un salto un attimo signora, stavo pensando una cosa. Mi puoi dare un attimo indietro ai 50 di prima? Quelli di prima, però signora, avevano un cerchietto sopra, guardi attentamente, devono avere un cerchietto, guardi attentamente. Me li dia che controllo anch'io, me li dia, me li dia che controllo, me li dia, grazie signora. Prenda questi qua intanto. Adesso il salgetto si comincia a rendere conto. A questo punto vorremmo sentire la signora. Signora, cosa è successo esattamente? Che avvertivo la resistenza nel dargliele, però era più forte il termine dammele per cui era necessario darle. E non mi sono bloccata. Dottor Caret, lei dirige una scuola di ipnosi dove si impara ad usare l'ipnosi, non certo per truffare, ma per scopi ben più importanti. In che consiste? Beh, nel momento in cui noi abbiamo lasciato andare la volontà attiva e abbiamo lasciato andare la mente conscia, allora la persona può cambiare, può trasformarsi, può diventare diversa. Possiamo utilizzare gli stati di coscienza passiva come stati per ottenere un cambiamento profondo che a volte può avvenire in pochi istanti. Ci può fare un esempio concreto? Beh, noi possiamo in pochi istanti portare una persona a trasformarsi. Vorremmo sentire la sua paziente. Sto vivendo un po' un periodo un po' particolare della mia vita e quindi ho deciso di fare questo esperimento per vederci un po' meglio. Adesso faremo vedere una piccola tecnica per indurre un cambiamento. Guardami un attimo. Vorrei che tu pensassi qui qualcosa che tu desideri per te, qualcosa che ti piacerebbe, qualcosa che vorresti avere. Guardami negli occhi se vuoi che si avvieri, guardami negli occhi. Adesso la mano si avvicina e la trasformazione avviene. Gli occhi si chiudono. E quando apri gli occhi ti senti una completa trasformazione. Come va? Molto bene. La persona si trasforma molto profondamente perché accediamo a una parte prima ancora della mente conscia, della mente logica. Ti ricordi quello che è successo? Ho pensato a una cosa che volevo realizzare e che volevo sentire dentro di me. Esattamente una forza. È stato qualcosa nelle gambe, non so, qualcosa che mi porta ad agire. Qualcosa che sicuramente mi servirà. Bene. Ottimo. Grazie. Il cambiamento interviene perché noi appunto interveniamo su una parte più profonda della mente e portiamo la persona a modificare dall'interno se stessa. È l'inconscio che poi processa le informazioni che gli diamo e che a sua volta procura il cambiamento come lui vuole. Incredibile. Senta il dottor Pavretto che può partecipare alla sua scuola. La mia scuola è aperta a tutti, nel senso che ad un certo punto è una scuola di formazione professionale per delle persone che vogliono approfondire questi temi. Il fine della scuola è portare delle tecniche poco conosciute alla gente e delle tecniche di alto livello. Diciamo che è rivolta essenzialmente ai cultori della materia e a chi pensa che con l'ipnosi possa avere un forte cambiamento personale. Dottor Pavretto, la ringraziamo per il suo intervento e le auguriamo un buon proseguimento. Grazie a lei, buonasera. Molto interessante l'ipnosi come terapia. Bene, proseguiamo con il nostro telegiornale, linea ora alle notizie sportive.